Il porto di Barletta, un patrimonio da valorizzare per favorire lo sviluppo turistico della città. Se ne è parlato nel corso di un convegno organizzato da Lions Club in collaborazione con WIP Architetti. Riuniti attorno ad un tavolo tutti i principali protagonisti della pianificazione di rilancio della struttura, la regione, il comune e soprattutto l'autorità di sistema portuale. Dal presidente Ugo Patroni Griffi le indicazioni sulla strada da seguire per la definitiva valorizzazione dello scalo portuale barlettano. Cosa c'è ancora da fare? C'è ancora da fare nel intercettare i capitali privati perché lo sviluppo di portistica è affidato al partenariato pubblico privato in cui il pubblico crea le condizioni per l'investimento del privato e noi ci siamo. Noi ci siamo, crediamo di aver fatto già molto ma se il privato per investire ci dovesse chiedere un ulteriore sforzo siamo qui per farlo. Questa la strada da seguire allo stesso tempo però tanto è stato fatto per cambiare il volto del porto, il tutto con fondi pubblici. Abbiamo 36 milioni di euro di finanziamenti fra fondi propri e fondi di derivazione unionale, ministeriale per quanto riguarda l'allungamento dei moli e quindi il completamento dell'attuale piano regolatore portuale di Barletta. Abbiamo stanziato 6 milioni di euro per i dragaggi, abbiamo 2 milioni stanziati per il rifacimento della banchina 3, abbiamo diverse centinaia di migliaia di euro sull'ammodornamento del porto, risorse anche per il recupero storico del faro borbonico quindi una massa di risorse credo che mai sia stata impegnata nella storia su questo porto. L'incontro si inserisce al meglio nel contesto di attività di promozione del territorio costantemente portate avanti dal Lions Club. C'è sembrato che incentivare il discorso turistico e soprattutto l'incentivo della città attraverso il porto, attraverso le potenzialità del porto, il mare che naturalmente ci circonda sicuramente rappresenta per Barletta una grossissima opportunità. Quindi aver invitato dei professionisti che sono sul territorio a sviluppare quelle che sono le potenzialità e soprattutto le capacità strutturali di una risorsa come quella del mare, come quella del porto ci è sembrato un importante incentivo e soprattutto un importante apporto non solo alla città di Barletta, ma a tutto il territorio circostante.